Musica Allora, che cosa troviamo in questo appartamento abbandonato della vela celeste? Sono stati fatti da un mese a questa parte, stanno togliendo i pannelli di amianto, per poi andarli a sostituire con delle lastre di lamiera. Però si è scoperto che questi pannelli di amianto sono stati depositati in questo appartamento, che sono depositati in una di queste stanze, e i pezzi di amianti rotti sono stati messi in queste buste dell'immondizia che vedi qui sulla tua sinistra. Però da qui non sono state portate via e smaltite, sono state poi depositate nello stesso posto dove risiedono da 35 anni quest'amianto. Noi viviamo con questo amianto da più di 35 anni. Questo è un pannello di amianto, che viena su